Faccio una domanda per tutti, che è questa. Riuscite a isolare un momento significativo che può essere accaduto due giorni fa o due anni fa, dipende dal vostro percorso, in cui può essere stato un complimento di una persona, di un amico, di un parente o un momento in cui a fine giornata vi siete trovati da soli la sera a casa, davanti allo specchio e avete realizzato o avete sentito qualcosa che vi ha fatto capire che quello che stavate facendo era davvero importante. Davvero importante in che senso? Davvero importante per te, perché l'hai sentito. Ah, beh sì. No, no, perché poi l'ho rivisto, no? Stavamo girando la seconda stagione, stavamo girando la seconda stagione e facciamo questa scena in cui davo queste testate sull'armadietto, no? E tornai a casa, facciamo questa scena, insomma, stra-intensa e mi fermai un attimo, cioè mi sono proprio fermato. Perché poi mentre giravo c'erano delle sensazioni molto contrastanti, no? Essendo io un sicuro ossessivo, non sono mai al 100% tranquillo dopo aver fatto una scena, ma perché secondo me il tempo è sempre poco, c'è sempre qualcosa che si può aggiungere, sai, le solite cose. Torno a casa, mi fermo e faccio pace dentro, crollo a piangere e dico ok, se tutto questo era in filigrana, in scena, allora forse stiamo facendo qualcosa di bello. Io forse quello che ho raccontato prima, nel senso, abbastanza subito è accaduta questa cosa quando siamo stati a Nisida, al penitenziario di Nisida, con alcuni di noi a provare una scena di Giulietta e Romeo e il detenuto che avrebbe dovuto interpretare Romeo al suo turno si era rifiutato di farlo perché non era una cosa da uomini. Dopodiché siamo usciti dal luogo dove facciamo queste prove e dietro l'angolino c'era lui da solo a ripetersi le battute. E quindi questa scena mi ha fatto capire che potevamo fare qualcosa di importante e anche poi, in grande scala, l'importanza e forse il compito di fare questo mestiere o comunque dell'arte in generale. Diciamo che ci sono stati tanti momenti, penso che la vita di ogni artista sia un po' altalenante tra sto facendo qualcosa di importante o sto facendo qualcosa di totalmente inutile. Penso che sia questa un po' la crisi. Per esempio, uno di questi momenti che in questo momento mi viene in mente è stato quando un ragazzo che era in carcere a Salerno mi ha detto che non gli lasciavano vedere la serie però che poteva ascoltare la mia canzone e se la ascoltava tutti i giorni perché gli dava quella speranza e gli accompagnava ogni giorno prima di poter uscire dal carcere. E lì ho capito l'importanza di quello che avevo fatto, che stavamo facendo e che appunto l'arte può dare una speranza e questo è un grande potere. Io credo di aver avuto più momenti in cui mi sono detto che non andava bene quello che stavo facendo, che stavo facendo piuttosto che il contrario. però mi capita spesso di avere a che fare con dei personaggi con una forte emotività o comunque con un carico emotivo pesante e molto presente quindi mi devo spesso confrontare io con tante realtà sia del personaggio che mie che possono anche far male o semplicemente possono essere anche uno stress però sicuramente ci sono tanti esempi poi abbiamo anche un bel contatto col pubblico e mi è capitato di vedere persone fare tesi di laurea sul tema del carcere o comunque dei penitenziari insomma noto che il nostro lavoro a volte può essere una piccola scintilla non per forza per fare una cosa uguale alla nostra ma semplicemente per andare in una direzione di fare qualcosa di buono o giusto e spesso mi capita in scena, soprattutto in scena emotivamente pesante di dire perché lo sto facendo, come mi sento io, lo sto facendo nel modo giusto c'è però un momento in cui mi dico non ci sono solo io ovvero devo togliere questa cosa dalla mia persona e devo essere un pochino meno egoista come dire e pensare che quello che sto facendo ha un'importanza anche per qualcun altro e può essere un esempio anche per qualcun altro io ascolto delle canzoni, ci sono dei cantanti che amo follemente e che ringrazierò per tutta la vita perché mi hanno veramente aiutato e a volte non mi rendo conto di come una scena, una dinamica o una passione come quella del pianoforte di Filippo può nascere anche in qualcun altro vedendo poi il lavoro che abbiamo fatto quindi sicuramente ci sono tanti momenti ma quando mi sento giù male e triste per come mi sento io in scena mi dico ho una responsabilità che è la vita del mio personaggio e ho anche una possibilità ovvero di tramandare qualcosa tramite questo mestiere che poi è tutto, come dire, doubt death quindi empatia e scambio quindi sì sì ci sono tanti momenti ma è bello tirarsi su in questi momenti pensare che stai facendo una cosa bella invece io trovo che sia molto sottile la linea tra il rendersi conto e il pensare di rendersi conto di quello che poi uno fa in un determinato momento io credo un po' inconsciamente, non me ne rendo veramente tanto conto e questo mi permette di lasciarmi ancora meravigliare da tanti aspetti che questo mestiere in particolare la lavorazione a mare fuori mi permette di esplorare poi è chiaro che ci sono tante opportunità che vanno di pari passo con questo però io tengo molto la mia parte bambina e credo che sia forse il sale proprio della mia esistenza e la conservo e la proteggo e penso che questo faccia sì che io non lo so, non mi rendo troppo conto delle cose anche perché poi se vogliamo parlare da un punto di vista pratico mare fuori personalmente non mi ha dato proprio il tempo di rendermi conto perché noi abbiamo girato la prima stagione poi è uscita, è andata subito bene abbiamo iniziato la seconda che è uscita, è andata subito bene abbiamo iniziato la terza quindi non c'è stato per me un vero momento in cui ho detto ok aspetta sta succedendo qualcosa sicuramente arriverà però in questo momento voglio ancora godermi non so come dire voglio godermi quello che sta succedendo senza rendermi conto troppo di quello che realmente è perché mi permette di vivermelo fino in fondo e senza pregiudizi e in totale libertà io penso che un attore o un artista guarda il mondo con gli occhi diversi cioè guarda il mondo e la vita quotidiana dall'altra prospettiva rispetto a tutte le persone comuni e persone normali e quindi perché secondo me più sei grande come uomo più sei grande come artista più cose vivi nella tua vita più cose hai da portare nella tua arte quindi ogni giorno è un giorno speciale ogni giorno è un giorno bello ogni giorno ha un suo inizio e ci sta un suo perché ognuno di noi ha un proposito per la vita e ognuno di noi ha un talento che può sviluppare che può lavorare quindi non c'è un limite cioè capito quindi io sono super felice ogni giorno della mia vita non soltanto nei giorni belli nei giorni brutti ci sono giorni brutti e giorni belli sì però anche nei giorni brutti ci sta un perché quindi anche nei momenti brutti nei momenti difficili nei momenti di difficoltà anche tu dici tutte le cose vanno storte no ci sta una lezione in quello quindi dipende come la fronti la situazione con quale pensiero con quale ottica con quale visione e noi che siamo artisti secondo me siamo privilegiati nel lavoro che facciamo perché tutto il dolore che noi magari riceviamo durante la giornata durante la vita possiamo trovare rifugio nell'arte cioè per noi l'arte è il rifugio per il nostro dolore per le nostre emozioni e per tutto quello che viviamo e quindi è fantastico poi ovviamente ci sta lo studio del personaggio ci sta magari la postura l'accento la provenienza e tutti gli altri dettagli però comunque l'anima è quella e quindi quando metti l'anima nei personaggi racconti la verità gli occhi sono lo specchio dell'anima e quindi uno spettatore non può non notare la verità se tu non se tu metti l'anima c'è capito quindi è fantastico tutto